Ciao viaggiatori, oggi siamo a Kanazawa. Quello alle mie spalle è il Tempio Miorigi, chiamato anche Tempio dei Ninja perché all'interno ci sono porte nascoste e trappole. È stata un'esperienza veramente incredibile perché quello che si vede nei film è ben poco in confronto alla realtà. Purtroppo all'interno non è possibile fare né foto né video, però vi consigliamo, se venite a Kanazawa, di visitarlo. Ci troviamo al quartiere di Samurai e la casa alle nostre spalle è la dimora della famiglia Nomura. Saluto È un'esperienza che era la mia famiglia ecceoria. Soprattutto a Ananda, oggi, passa lì, passando solo. È un'esperienza che si avrenda. Questa è un'esperienza che si riuscilla a conoscenze. E un'esperienza che si riuscilla in un'esperienza. È un'esperienza che si riuscilla a conoscenze. Ora siamo al parco Kenroquen, considerato un DP by parchi del Giappone. Ora siamo al parco Kenroquen. Ora siamo al parco Kenroquen. Ora siamo al parco. Ora siamo al parco Kenroquen. 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 Ora siamo al parco Kenroquen.